Stanchezza non significa necessariamente debolezza della fede, oppure sì. Stanchezza significa in ogni caso insaziabilità. Mi sento troppo stretto in tutto ciò che significo. Perfino l'eternità che io sono mi sta troppo stretta. Ma se leggo un buon libro, ad esempio una descrizione di viaggio, esso mi risveglia, mi appaga, mi sazia. Segno che prima non avevo incluso questo libro nella mia eternità, o che non ero arrivato a intuire quell'eternità che include necessariamente anche questo libro. A partire da un certo grado di conoscenza devono sparire stanchezza, insoddisfazione, angustia, disprezzo di sé. È precisamente là dove io ho la forza di riconoscere come mia stessa essenza ciò che prima mi ristorava, appagava, liberava, elevava in quanto cosa estranea. Ma come la metti se solo come presunta cosa estranea essa produceva quell'effetto e se tu, essendo ormai consapevole, non solo da questo punto di vista non ci guadagni nulla, ma perdi anche il conforto precedente. Certo, essa produceva quell'effetto solo come cosa estranea, ma non solo quell'effetto, bensì, continuando ad agire, mi ha innalzata a questo superiore livello. Non ha cessato di essere estranea, ha solo cominciato, oltre a ciò, ad essere io. Ma l'estranea età che tu sei non è più estranea. In questo modo neghi la creazione del mondo e confuti te stesso. Dovrei dare alla concordia il benvenuto, e invece quando la trovo sono triste. Dovrei, grazie alla concordia, sentirmi più compiuto, e invece mi sento oppresso. Tu dici dovrei sentirmi. Esprimi così un comandamento che è in te? Proprio così. È un comandamento costante o solo momentaneo? Non posso dirlo con certezza, tuttavia credo che sia un comandamento costante, anche se io lo odo solo a momenti. Da cosa lo deduci? Dal fatto che, per così dire, lo odo anche quando non lo odo, non nel senso che non si faccia proprio dire, ma che attutisce, oppure a poco poco inasprisce, la voce contraria. La voce, intendo dire, che mi fa perdere il gusto della concordia. E allo stesso modo odi la voce contraria anche quando parla il comandamento della concordia. Anzi, qualche volta mi sembra di non udire altro che la voce contraria, che tutto il resto non sia che un sogno, e mi sembra di lasciare interferire il sogno anche di giorno. Perché paragoni il comandamento interiore a un sogno? Sarebbe forse al pari di quello assurdo, sconnesso, inevitabile, irripetibile, origine di felicità o di paure infondate, non interamente comunicabile e tuttavia anelante alla comunicazione? Tutto questo assurdo, perché solo a patto di non obbedirgli posso esistere qui, sconnesso, non so da dove provenga e a cosa miri, inevitabile, mi coglie impreparato e di sorpresa, come i sogni colgono il dormiente che pure quando è andato a dormire doveva essere preparato a sognare? È irripetibile, o perlomeno così sembra, perché non posso attenermici, non si fonde col reale e conserva perciò intatta la sua intatta irripetibilità. È origine di felicità o di paure infondate, anche se assai più frequentemente delle seconde che della prima, non è comunicabile perché è inafferrabile e anela alla comunicazione per il medesimo motivo.